Dopo le prime due edizioni tenutesi a Parma e Roma, sarà Pesaro ad ospitare le finali nazionali di Touch Rugby. La candidatura del Comitato federale marchigiano, assieme all'organizzazione della Pesaro Rugby, porterà sabato 1 giugno al Tecnovus Rugby Park di Muraglia 14 squadre da tutta Italia, pronte a sfidarsi nella fase finale di questa sempre più diffusa declinazione della palla ovale che propone un Rugby a 5 senza contatto e senza preclusioni di categoria, età o genere. Touch Rugby in cui Pesaro è finora la massima espressione, visto che ha vinto le prime due edizioni e che sabato si riproporrà con due squadre derivate dai Kiwi giallorossi, gli Scottadito e i Tres Amigos. La terza edizione è stata scelta la candidatura di Pesaro in virtù delle due edizioni precedenti che hanno portato alla vittoria della Rugby Pesaro, anche della crescita del movimento reggibistico marchigiano. Infatti, oltre all'evento che ci sarà sabato, questo evento nazionale, sabato 15 giugno a San Benedetto ci sarà un incontro internazionale di under 20 tra l'Italia e la Spagna, prima che i ragazzi partino per i mondiali in Sudafrica. La candidatura è stata ben accolta per la qualità della programmazione e dell'organizzazione e ci tengo a dire che c'è stato anche un sostegno da parte del Comune di Pesaro inserendo la manifestazione di sabato nel planning degli eventi di Pesaro, capitale italiana e della cultura. Il touch rugby è una variante in cui non c'è il contatto, quindi appunto è aperto a tutti. Viene facilitato l'avanzamento perché la difesa sul tocco deve indietreggiare permettendo all'attacco di avanzare ogni tocco fino a un massimo di 6, quindi l'attacco ha 6 opportunità per fare una meta. Praticamente ci sono 5 in campo, 7 in panchina massimo, quindi un massimo di 12 giocatori per squadra, con un campo che è la misura a metà di un campo normale e permette appunto che lo sport sia aperto a tutti, sia a bambini di 14 anni che a old di 50 e passa anni. Una disciplina nuova, Rugby A5, senza il contatto, che cerca di avvicinare gli appassionati a questo gioco del rugby e quindi di portarli anche sul campo indipendentemente dalle loro esperienze, dalla loro età e dal genere di sesso.